Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato dalla terza, dal titolo Le Isole del Rifugio, Venezia prima di Venezia, di Stefano Gasparri e Sauro Gelichi, che noi abbiamo il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti, perché ci parlino di questa Venezia anteliteram, come si potrebbe dire. Quindi io, come mia abitudine, non rubo altro tempo e lascio subito la parola a uno degli autori. Prego a voi. Allora, comincio io d'accordo con il mio collega Sauro Gelichi, rispettiamo l'ordine con cui siamo intervenuti nel libro. Il libro ha due autori che hanno scritto due parti separate ma in realtà hanno lavorato insieme, hanno collaborato. Poi, diciamo, la diversità degli strumenti di lavoro, delle caratteristiche della storia, nel mio caso dell'archeologia, nel caso del professor Gelichi, hanno fatto sì che abbiamo scritto due parti separate che però si parlano reciprocamente. Da mio punto di vista, diciamo, la scelta di scrivere questo libro è determinata dal fatto che la storia di Venezia, pur apparentemente notissima, di fatto non ha una grande storiografia, ha una forte impronta locale e a livello generale di Venezia ci si occupa in un periodo molto più tardo di quello che noi abbiamo trattato qui. Noi abbiamo trattato i primi 500 anni del Medioevo, diciamo così, 500-1000, per usare una terminologia cronologica semplice, cioè quei secoli più complicati, privi di fonti scritte e in cui l'archeologia appunto ha un ruolo anche fondamentale. D'altra parte le fonti scritte ci sono, anche se non sono moltissime, e la storiografia negli ultimi anni ha elaborato sistemi di indagine che hanno portato a importanti novità, diciamo, nell'analisi. Quindi noi esaminiamo un periodo in cui Venezia ancora non c'era. Che vuol dire questo? Vuol dire che si parte da una fase, quella diciamo intorno al 500, in cui la Venezia è ancora una grande regione del nord Italia, che va dall'Istria fino al fiume Alda, e si arriva poi intorno al 900, al momento in cui finalmente sulla laguna nasce una vera e propria città definibile come Venezia, cioè la Civitas Rivo Alti, la città di Rialto. Quindi un percorso complesso in cui si forma, diciamo, lo Stato veneziano e contestualmente si forma anche la città. Questo avviene in un periodo molto difficile, periodo inizialmente delle invasioni barbariche, diciamo così, però molto, diciamo, importante nella leggenda veneziana che ha visto in genere Attila all'origine della fuga delle popolazioni del territorio veneto verso la laguna e uno degli scopi del libro è quello di ridimensionare questa leggenda. Fughe in massa di popolazione non ci furono né nel Veneto né altrove, nell'Europa medievale. Questo non vuol dire che le invasioni barbariche, dei Longobardi in particolare, non siano state diciamo evidentemente momenti molto duri di guerra. Ma io credo che alla radice, diciamo, della iniziale fortuna, se così si può dire, di Venezia, sta il fatto che nel momento in cui i Longobardi si impadroniscono dal 568 in poi dell'Italia del Nord, e poi scendono anche in Italia sciacrale, sulla laguna si forma una resistenza da parte dei bizantini, l'impero romano d'Oriente, dei bizantini che ha un forte connotato militare, evidentemente l'Adriatico è strategico e quindi lì Bizanzio investe e resiste. E quindi si crea un nucleo, diciamo, politico e militare importante che evidentemente intorno a sé poi attira una serie di popolazioni e quindi di attività anche economiche che si innestano e che inevitabilmente assumeranno, ma non rapidissimamente, una dimensione economica e mercantile sempre più importante. Quindi il primo punto è questo, non ci fu una grande fuga, ma ci fu, diciamo, una nuova opportunità intorno a un comando militare sulla laguna. Il secondo dato, che riguarda proprio l'attività mercantile, per così dire, il commercio per mare, anche lì troppo si è insistito, secondo me, sulla precocità veneziana. Lì il discorso è molto complicato perché le fonti sono davvero poche. È una caratteristica di tutte le fonti che riguardano il commercio mediterraneo e alto medievale e che esse non parlano mai del commercio quando c'è qualche, diciamo, elemento particolarmente singolare, diciamo, e quindi parlano spesso di attività, diciamo, di contrabbando, di pirateria, mai di quello che è il flusso normale e tradizionale del commercio. Questo fino almeno alla tarda età carolingia, insomma, quando poi, effettivamente, secondo me, nella seconda metà del IX secolo, c'è una vera e importante crescita significativa dell'attività per mare e anche dell'attività dell'entroterra, perché non dimentichiamo che il ruolo di Venezia è quello del commercio di scambio, quindi partendo, come si sa, dal sale, ma poi importando merci all'Oriente e queste poi le distribuivano lungo la piena padana e poi oltre in età carolingia, diciamo, le merci veneziane potevano arrivare anche al di là delle Alpi. Quindi questa funzione di scambio di Venezia diventa importante in età carolingia, quando c'è un, diciamo, un'area comune di scambio alle spalle di Venezia che può importare merci da Bizanzio e questo è un dato. Come anche un altro dato importante è che tutto questo avviene in una fase di forte contrasto militare con i saraceni, quindi è un momento molto anche difficile, però Venezia riesce a superare contestualmente, costruisce questa città sulla laguna e questo avviene nel momento in cui i due imperi, quello carolingio e quello bizantino, trovano un accordo, quella cosiddetta pace di acquist grana che stabilizzando la situazione favorisce ulteriormente, diciamo, l'attività economica di Bizanzio. L'ultimo dato che vorrei mettere in evidenza adesso, poi lascio la parola a Saurogelichi, è il fatto che Venezia sicuramente è bizantina, ha queste radici molto importanti, non potremmo dire romane perché evidentemente Venezia è una città nuova, quindi è quasi un unicum nell'Italia medievale, però è molto importante il rapporto con la terraferma. Ecco, non è vero che Venezia è del tutto un altro mondo rispetto alla terraferma. Il suo sviluppo, in particolare nel secolo X, quando noi cominciamo a vedere le strutture interne di Venezia, cominciamo a capire come viene eletto questo duca, d'oggi diciamo che il nome era un duca perché originalmente era un funzionario bizantino che poi si rende autonomo, insomma. Quando vediamo il sistema elettorale, l'assemblea, la tornia, cominciamo a capire un po' come funzionano le cose, vediamo che le radici bizantie di Venezia però sicuramente si incrociano con una fortissima influenza della terraferma, anche perché i duchi e l'aristocrazia venenziana avevano molte proprietà in terraferma, cioè nel regno italico, e quindi c'era un'integrazione per queste due realtà. E secondo me proprio l'originalità di questa prima Venezia è questo suo mettere insieme la natura bizantina e il rapporto profondo con il regno italico, questo è un altro elemento che mi sembrava molto importante. Per il momento lascerei la parola a Saura. Bene, grazie Stefano. Allora mi pare che Stefano Gasparri abbia messo in evidenza i punti forti di questa nuova narrazione che attraverso una rilettura delle fonti scritte è stata data e quindi questo già è un fatto a mio parere significativo che giustifica l'opportunità di pensare di scrivere un libro all'interno di una produzione storiografica su Venezia che come si ricordava in precedenza è veramente sterminata, quasi ingestibile, quasi impossibile leggere o conoscere tutto quello che è stato scritto su Venezia. Per la parte invece dell'iniziale, quella di cui ci siamo occupati noi, la letteratura è meno consistente e soprattutto è, come diceva già in precedenza, il professor Gasparri è una produzione storiografica che tende a riprendere alcuni topos tradizionali che poi sono stati generati a partire dalla cronatistica più antica, dall'istoria veneticorum attribuita a Giovanni Diacono, che scrive tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo e che poi sono stati ripresi forse anche per la scarsità di altri testi scritti che riguardino questi periodi, è stata ripresa in maniera abbastanza meccanica, quindi esistono una serie di elementi tradizionali che sono ripetuti senza essere stati assolutamente ripresi, riletti e senza aver operato su di essi un ragionamento nuovo. Ecco, io credo che questo sia comunque uno dei primi aspetti significativi di questo libro, se mi si permetta questo terne per un lavoro a cui ho partecipato anch'io. L'altro aspetto sempre di novità di questo volume è il fatto che dopo circa più di trent'anni da un libro giustamente famoso su Venezia delle origini, si chiamava proprio questo libro Venezia origini di Vladimiro Dorigo, dopo più di trent'anni da questo libro l'archeologia torna a diventare uno strumento utilizzato per cercare di capire queste fasi iniziali della storia della laguna e poi anche della storia di Venezia come città, ma come ci diceva giustamente Stefano Gaspari prima, Venezia come città è una realtà che si trova alla fine di questo percorso, non sta all'inizio. Devo dire quindi che peraltro che il testo di Dorigo, fondamentale per moltissimi aspetti, Dorigo raccoglie una quantità enorme di dati anche archeologici prodotti fino a quel periodo, è un libro però che non solo perché è stato scritto più di trent'anni fa, ma è un libro che utilizza però il dato archeologico per molti aspetti e su molti problemi lo utilizza in maniera non particolarmente felice, per cui c'era non solo la necessità di tornare su quei racconti, su quella impostazione che era stata data in quel testo famoso, ma c'era anche la necessità peraltro di utilizzare i nuovi dati che l'archeologia in questi ultimi trenta, trentacinque anni ha prodotto, quella naturalmente che è stata, diciamo le attività archeologiche sono state pubblicate e che quindi sono accessibili e sulle quali si può ragionare. Questi nuovi dati archeologici, quindi nuovi perché appunto sono stati prodotti in epoche più recenti, ma anche nuovi perché si possono leggere con un punto di osservazione innovativo, cioè di una nuova archeologia, a mio giudizio sono in grado già in parte di poter ricostruire alcuni aspetti di queste fasi iniziali così poco conosciute. E quindi l'archeologia, non solo perché ci sono poche fonti scritte, ma perché la fonte archeologica ci consente uno sguardo anche diverso rispetto ai problemi storici del passato. È un altro punto di osservazione perché processa altri tipi di fonti, ma anche proprio per questo dicevo nel libro, il libro contiene un punto, credo, diciamo una sorta di punto della situazione letto dalla prospettiva archeologica della storia iniziale di Venezia e anche però contiene tutta una serie di snodi ancora poco chiari che ci auguriamo possano poi le future ricerche in qualche modo chiarire. Che cosa ci dice l'archeologia, quella che abbiamo a disposizione per studiare queste fasi iniziali? Ci dice, per esempio, comincia a dirci abbastanza sulla configurazione materiale di questi insediamenti. Noi oggi vediamo una Venezia splendente, ricca di marmi, di pietra, di mattone, quindi una realtà assolutamente straordinaria in un luogo abbastanza insolito come quello di una laguna. Dobbiamo però immaginare una Venezia o perlomeno una serie di insediamenti che costituivano il plesso delle strutture insediative che caratterizzavano la laguna assolutamente differente. Un paesaggio dove regnava sovrano il legno, tutti gli edifici erano di legno con l'eccezione di pochissime strutture, forse, anzi direi probabilmente il palazzo ducale che però come sappiamo si comincia a costruire nei primi decenni del nono secolo quando si trasferisce il potere ducale al rialto. Alcune chiese sicuramente devono essere in pietra e mattone anche se però nella copertina del libro che riprende un famoso disegno che si trova alla biblioteca marciana che rappresenta un insediamento della laguna nel medioevo vediamo che anche le chiese sono di legno o poteranno essere di legno quindi c'è anche questo elemento. Quindi dobbiamo immaginare questi insediamenti naturalmente l'insediamento che si sviluppa intorno al rialto, Torcello ovviamente ma anche tutta un'altra serie di luoghi fortemente abitati che si erano sviluppati ai bordi della laguna, penso a Cittanova, penso a Equilo, penso a Metamauco, dobbiamo immaginarli appunto come una realtà che ha queste caratteristiche, una realtà completamente con gli edifici costruiti completamente di legno con poche fabbriche in materiale durevole che dovevano quindi rappresentare anche in un ipotetico skyline del periodo appunto degli elementi emergenti che si devono vedere in maniera particolarmente vistosa. Quindi questa è l'immagine che noi abbiamo dai dati archeologici, questa è l'immagine che cerchiamo di riportare nelle pagine del libro in modo tale che il lettore comincia a pensare ad un luogo completamente differente dal punto di vista materiale rispetto a quello che vede oggi visitando Venezia o visitando anche gli altri abitati che ancora sopravvivono a vari livelli nella laguna, penso a Murano, Burano e la stessa Torcello. Un altro aspetto che posso sottolineare e va in questo aspetto nella stessa direzione che ha sviluppato in maniera a mio parere molto critica il professor Gaspari è quello di ripensare un po' questa bizantinità delle popolazioni venetiche della laguna. Lui ha fatto un lavoro estremamente interessante sugli aspetti politici dell'organizzazione politica e quindi come avete sentito ha rilevato delle consonanze anche con le esperienze analoghe di terraferma io ho cercato di fare un lavoro simile operando sulle fonti materiali. Mi sono domandato quanto attraverso le fonti archeologiche, le fonti materiali, noi possiamo riscontrare di bizantino nella costruzione di una ipotetica identità delle comunità venetiche, un'identità che si rappresenta per esempio nello stare a tavola, che si rappresenta nel costruire gli edifici, nel vivere quindi nella vita quotidiana, che si rappresenta per esempio anche nella stessa ritualità funeraria. Io ho riscontrato che c'è pochissimo in realtà di bizantino in tutto questo. I veneziani mangiavano in recipienti che provenivano dall'area padana, dalle Alpi in particolare, consumavano probabilmente degli alimenti che erano più consoni non solo allo stile di vita loro ma anche all'ambiente in cui vivevano, avevano poco a che fare con il mondo costantinopolitano. I veneziani importano probabilmente, anzi sicuramente i veneziani importano dall'Egeo alcune derrate alimentari, poi magari dopo vedremo quali possono essere, però non sembrano utilizzare dei recipienti per le stoviglie d'ammezza che sembrano tipiche almeno delle realtà urbane del mondo orientale. Tant'è vero, esiste una storia abbastanza nota che ci racconta Pier Damiani di una principessa bizantina che è agli inizi dell'undicesimo secolo che è probabilmente la moglie di un duca, quindi siamo all'interno di un entourage di altissimo livello. Ci dice Pier Damiani che questa principessa non usava l'acqua comune ma faceva raccogliere la rugiada che proveniva dal cielo dai suoi servi e per mangiare non usava le mani ma si faceva tagliare la carne dai servi e usava una forchetta. La storia di Pier Damiani racconta questa vicenda naturalmente per motivi particolari, se non ricordo male doveva dare delle indicazioni ad una signora che doveva entrare in convento e quindi in qualche modo faceva dei riferimenti al tipo di vita che doveva abbandonare, ma è interessante il fatto che Pier Damiani indichi, faccia riferimento a comportamenti che evidentemente tra il X e l'undicesimo secolo erano abbastanza estranei ai comportamenti, al modo di vita dei veneziani che andavano a Costantinopoli a farsi dare i titoli di iupatos o analoghi, però quando poi tornavano a Venezia evidentemente non usavano la forchetta per mangiare. Ma potrei portare altri esempi a cui ho fatto riferimento, ma insomma chi avrà voglia di acquistare il libro e di legge lo ritroverà nel mio testo. Ecco io direi che questi sono due degli argomenti che abbiamo trattato dal punto di vista archeologico, potremmo poi parlare di altri, ma magari dopo che lascio la parola al collega Gaspari per qualche altro commento e poi eventualmente interverrò su un altro tema che penso sia molto importante in cui l'archeologia possa e potrà dare molto è quello dei commerci. Sì, magari un altro intervento per puntualizzare almeno un aspetto che ho solo accennato. È molto singolare questo Stato veneziano, questo Ducato che si forma, è veramente un unicum dal punto di vista politico e quello che mi sembra, vale sottolineato, è il fatto che la struttura che si mette in piedi appunto è una struttura militare che si regge sull'esercito. L'esercito che vuol dire? Vuol dire almeno inizialmente funzionari militari che vengono dall'Oriente ma sempre più, e non sappiamo esattamente quando, probabilmente nel corso del VII secolo, il reclutamento avviene sempre più locale, mentre chi è venuto dall'Oriente si insedia, si sposa e quindi diventa anch'esso locale. E nel passaggio tra un esercito che viene da fuori e un esercito locale si consuma il passaggio dalla dipendenza all'autonomia. E quindi questo Duca, che non è altro che un generale bizantino, semplificando, a un certo punto diventa invece il punto di riferimento della comunità locale. E questo è fondamentale perché praticamente è l'unica istituzione che noi vediamo nei primi secoli, il resto diciamo a malapena accoglierlo. Quindi sarebbe fondamentale capire quando questo cambiamento da funzionario mandato da Bisanzio a personaggio eletto localmente avviene. C'è la famosa leggenda, che ancora nella letteratura locale veneziana continua a essere sostenuta, del primo Duca Paolicio, il famoso Paolicio. E questo è interessante perché decostruire questa storia ci consente di capire come lavorava il primo e più importante cronista della Venezia alto medievale, già nominato da Professor Gelichi, cioè Giovanni Diacono. Questo Giovanni Diacono è stato lasciando perdere alcuni dubbi che rimangono, era sicuramente però un funzionario del palazzo Ducale intorno all'anno 1000. Come tale aveva a disposizione l'archivio che il palazzo Ducale aveva cominciato a costruire. E allora che cosa racconta Giovanni Diacono? Racconta che secondo lui a un certo punto all'età di Gliottrand, lui dice quindi l'inizio del secolo VIII, 720 circa eccetera, i veneziani decidono di darsi un Duca e eleggono Paolicio per conto loro e quindi da lì parte secondo Giovanni la storia autonoma del Ducato veneziano. In realtà Giovanni che cosa fa? Utilizza i documenti che trova nell'archivio e su quelli costruisce una storia. Soprattutto utilizza un famosissimo testo molto importante, il cosiddetto patto di lotario di età carolingia che regolava i rapporti tra Venezia e l'entroterra e che però conteneva una parte più antica. Evidentemente un antico patto che c'era stato di confine tra il Regno Longobardi e Venezia. Manipolando i dati si inventa questa storia, ma se l'inventa. Se l'inventa perché conosce questi documenti e pensa di poterci lavorare con la disinvoltura tipica dei cronisti altomedievali. In realtà questa è una leggenda, Paolicio probabilmente è il nome di un Duca Longobardo del Veneto, ma questo adesso è un discorso troppo tecnico e lo lasciamo perdere. Il momento in cui è probabile che i veneziani per la prima volta si siano dati un Duca autonomamente è più o meno in quegli anni lì, non molto dopo, quando in tutta Italia si attiva una rivolta contro Bisanzio per motivi religiosi, perché gli imperatori bizantini sostengono la cosiddetta eresia iconoclasta, quindi la distruzione delle immagini sacre in quanto eretiche secondo loro, invece in Italia c'è una resistenza forte per difendere il culto delle immagini. In questa fase il rappresentante di Bisanzio in Italia l'Esarca cerca addirittura di catturare il Papa, c'è una rivolta dei vari eserciti dell'Italia bizantina e in particolare dell'esercito della Venezia. Ed è probabile che quindi intorno a 720-730 sia stato eletto il primo Duca autonomo. Detto questo, la figura del Duca rimane incerta per tutto questo periodo, è molto particolare perché non c'è un periodo di governo, è eletto a vita, il che potremmo dire a morte, nel senso che la maggior parte dei casi venivano ammazzati questi duchi, proprio perché non c'erano regole che regolavano, stabilivano una successione ordinata, quindi in alcuni casi cercano di scegliere un figlio come correggente, un fratello per cercare di avviare una transizione ordinata, ma in genere le cose finiscono male, quasi tutti fanno una brutta fine e perché si possa arrivare ad una regolamentazione in qualche modo di questo tipo di processi bisogna arrivare intorno al 1000, nel X secolo avanzato quando noi ci fermiamo, quindi quando le strutture dello Stato Veneziano acquisiscono ormai una loro realtà con un'assemblea, anche lì non è chiaro chi ci sta in questa assemblea, però insomma l'assemblea c'è, ha i poteri di eleggere questo Duca e quindi anche se la vita venenziana rimane sempre molto turbolenta, però abbiamo delle strutture statali in funzione, però ci vogliono 400-500 anni perché questo avvenga, quindi è un processo molto lungo, molto interessante. Ecco, questo quello che mette in evidenza è questo fatto. Se posso riprendere molto brevemente alcuni ragionamenti sull'uso dell'archeologia, uso, l'utilizzo dell'archeologia, quella che ha prodotto fino ad ora dei dati, ma anche come ho detto in precedenza, l'archeologia è uno strumento che a mio parere nel futuro potrà dare, se ben trattata, informazioni ancora più interessanti su queste fasi. Per esempio sul problema dei commerci a cui ha fatto già riferimento Stefano Gaspari prima, soprattutto sul problema del momento in cui questo spazio lagunare, le comunità che vivono in questo spazio lagunare, che si stanno nel frattempo, cominciano a coagularsi intorno a questo piccolo archipelago di Rialto, capire esattamente quando abbiamo il momento di decollo. Perché come giustamente in precedenza Stefano Gaspari ha sottolineato, ci sono alcune tendenze negli ultimi anni, ci sono state avanzate delle ipotesi di una precocità, di una dimensione economica rilevante già in queste fasi più antiche, cioè tra il tardo ottavo e i inizi nono secolo. È chiaro che sarà difficilissimo riuscire a individuare, se esiste poi, un momento di svolta in tutto questo, un momento in cui queste comunità locali cominciano a sviluppare un'attività commerciale non solo all'interno della pianura padana, perché ci sono poi delle fonti che comunque ricordano la presenza veneziana relativamente precoce nella pianura padana, insieme però ad altri soggetti che non abbiamo finora nominato, ma che sono nell'ottavo tecolo sicuramente dei soggetti estremamente, forse più importanti degli stessi veneziani, cioè sono gli abitanti di Comacchio, di questo piccolo paese oggi che si trova quasi sul mare in provincia di Ferrara, famoso come ricorda, è un famoso passo di lei sulla storia di Venezia, famoso proprio per le sue anguille, in realtà in questo periodo tra tardo settimo e ottavo è probabilmente lo snodo commerciale più importante nelle transazioni commerciali verso la pianura padana e forse anche io penso anche i dati archeologici hanno dimostrato anche tra il Mediterraneo e la pianura padana nel corso dell'ottavo secolo. Quando i veneziani sostanzialmente sostituiscono e anzi accelerano questa propensione commerciale fino a diventare poi quella città mercantile che tutti noi conosciamo e per cui è famosa fino all'età moderna, non è un problema semplicissimo da risolvere, le fonti scritte, lo diceva prima Stefano Gasparri, sono abbastanza poche a questo proposito e le fonti materiali si sono limitate fino ad ora all'analisi o delle monete, cioè della presenza di monete, tesoletti monetali, che ci sono però, ci sono tesoletti monetali di questo periodo tra d'ottavo e anche nono scoperte a Venezia e anche poi su un ragionamento indiretto, cioè sulla capacità che potevano avere le aristocrazie locali di investire un surplus economico in attività di tipo energetico, cioè nella costruzione in questo periodo di chiese. Per cui è stato usato il criterio, ci sono, nascono molte chiese in questo periodo in un certo momento, quindi questo è un riflesso di una sorta di boom economico. Il problema di questo ragionamento è da un certo punto di vista facilmente contestabile perché è il problema delle datazioni delle chiese che è con tutta probabilità non propriamente corretto perché si basa su fonti scritte molto tardi e quindi abbastanza inattendibili o comunque non attendibili al 100%. C'è un terzo strumento che forse è il più interessante di tutti, di tipo archeologico, che è un oggetto archeologico su cui gli archeologi stanno lavorando soprattutto negli ultimi anni perché non è molto è stato identificato e cioè sono le anfore orientali che fino a pochi anni fa sembravano scomparire nel record archeologico di tutta la nostra penisola dopo la fine del VII secolo. In realtà negli ultimi 10-15 anni questi materiali sono stati riconosciuti, identificati, studiati e si è visto che la loro presenza è tutt'altro che rilevante soprattutto in alcuni siti dell'area adriatica come Comacchio che ricordavo prima che è il sito attuale che ha restituito più anfore orientali di ottavo nono secolo di tutta l'Italia del nord e probabilmente anche Venezia dove purtroppo però questo tipo di indicatori non è stato sufficientemente studiato e analizzato, quindi purtroppo non possediamo gli stessi valori quantitativi e qualitativi e siamo in grado oggi di mettere a disposizione della ricerca scientifica per siti come Comacchio. però ecco è un marcatore archeologico particolarmente importante e da quello che possiamo vedere questo nel libro non ne parlo perché sono dati ancora sotto che si stanno processando ma da quello che si può vedere la realtà veneziana ha molte similitudini con quella comacchiese tra ottavo e nono secolo e quindi vedremo insomma se emergeranno gli stessi tipi di dati e gli stessi tipi di riflessioni che abbiamo fatto per Comacchio, ma una curiosità la tolgo subito, per cosa trasportavano queste anfore orientali che troviamo certo in quantitativi non paragonabili a quelli che si trovano negli scavi di età classica ma niente nell'alto medioevo è paragonabile a quello che avviene nel mondo romano, se noi pensiamo di studiare dell'alto medioevo avendo come paradigma il mondo romano possiamo anche smettere di affrontarlo perché sarà sempre contrassegnato dal segno meno, quindi bisogna un po' relativizzare i dati che noi ricaviamo dal punto di vista archeologico per questi periodi, ma che cosa appunto contenevano queste anfore? Ma una buona quantità di queste anfore sulla base, ripeto, di dati che abbiamo ricavato soprattutto dagli scavi di Comacchio che è come riuscite a capire, è un'interfaccia significativa per i nostri ragionamenti dall'analisi appunto sia tipologica di questi manufatti sia del contenuto che si può ricavare sulla base delle analisi chimiche, delle tracce che rimangono all'interno di questi recipienti, sembra che la stragrande maggioranza di questi recipienti trasportassero sì olio, ma soprattutto vino e soprattutto vino dell'Egeo, è un dato questo molto interessante perché assolutamente, che io sappia, poi mi correggerà il collega Gasparri che è qui presente, non mi pare sia ricordato nelle fonti scritte mai la presenza di vino dell'Egeo, si parla di olio, forse nelle fonti si parla di olio, si parla di garum, si parla di spezie, ma non mi pare si parli mai di questo vino Egeo, mentre invece, ecco, dai dati che noi abbiamo sembra che ci sia questo commercio significativo che getta una luce molto interessante sul ruolo delle isole dell'Egeo in questo periodo, che evidentemente sono delle isole produttrici di vino a tal punto da esportarlo fino a Comacchia e sicuramente fino anche a Venezia, ma che dà anche una luce interessante su questi collegamenti commerciali tra appunto questi nostri impori, mi passa il professor Gasparri per sto termine che ha un uso, oppure insomma possiamo, aree di mediazione culturale, scusate economica, chiamiamole come vogliamo, è ancora il mondo mediterraneo che non è evidentemente così chiuso come aveva tanti anni fa supposto Henri Pirenne, famosi libri sul libro sul momento e Carlo Magno e che un paradigma, quello di Pirenne, che ci ha accompagnato e continua ad accompagnare. Cioè ecco, questi marcatori archeologici a che sono emersi negli ultimi anni, come dire, rappresentano una sorta di punta di iceberg evidentemente di un fenomeno che probabilmente gli archeologi, io mi auguro, saranno in grado di mettere sempre meglio a fuoco nel futuro e quindi magari tentare di dare una risposta un po' più precisa su questa questione di quando gli abitanti della laguna cominciarono davvero a guardare ai commerci come una fonte economica particolarmente importante per il decollo delle loro comunità e quindi attivare poi questo collegamento verso i paesi più lontani anche del Mediterraneo. Ecco, questo è un altro aspetto su cui l'archeologia ha cominciato a dire qualcosa ma io penso che potrà dire molto, se gli archeologi ovviamente la useranno in maniera corretta e in maniera performativa, ecco insomma, perché bisogna poi fare anche una buona archeologia per ricalare dei buoni dati, perché una cattiva archeologia non ci porta da nessuna parte. Beh, io trovo davvero interessante anche perché noi su Venezia abbiamo tutti un'immagine di una città formata nel suo splendore, ma poi il mito della fondazione è qualcosa che si perde nell'oscurità dei secoli alto medievali, quindi questo è un volume importantissimo che riapre, io credo, anche tutta una serie di questioni e di domande che attendono ancora risposta, perché come diceva il professor Gelichi, l'archeologia è andata avanti e fornisce sempre nuove risposte ai molti dubbi. Io a questo punto non posso far altro che ricordare il titolo, così intanto cominciano a comprarsi questo libro e a scoprire qualcosa su questa città che quest'anno fra l'altro casualmente è anche il centenario di Marco Polo, quindi andiamo dall'alto al basso medioevo, si può dire. Quindi il titolo del volume è Le isole del rifugio, Venezia prima di Venezia, appena pubblicato dalla terza, di Stefano Gasparri e Sauro Gelichi che sono stati i nostri graditissimi ospiti e che io ringrazio davvero tanto per la loro partecipazione. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. A tutti voi invece ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove insieme a questa trovate tutte le altre nostre video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora a tutti e a presto. Arrivederci. Grazie.